Qualche precedente, sono sette le sfide che si sono giocate al Picchi. Questa è la partita del 3 aprile 2004, Serie B. Livorno batte Pescara 5-1, Livorno di Mazzari, ex della Contesa, giocato nel Pescara nella stagione 81-82. Un rigore generoso, fischiato da Nucini di Bergamo per questo presunto fallo di Di Cara su Cristiano Lucarelli, che sblocca il punteggio dagli 11 metri. Poi nella ripresa lo svarione di Caccavale e quindi il Livorno ne approfitta. Gennarino Ruotolo che salta prima colonnello, poi Bellet e l'assista al bacio per la Voledi contro Balzo di Igor Protti. 2-0 per il Livorno che farà Tris, sempre sul calcio di rigore. Questa volta c'è Ferselle, il francese, viene atterrato da Bellet e sul punto di battuta ancora Cristiano Lucarelli. 3-0, poi in contropiede altri due gol. Il primo di Igor Protti, assistito magistralmente da un suo compagno di squadra. E poi la cinquina firmata da Thomas Danilevicius nel finale. Il pallo di testa colpito da Bellet e il gol della bandiera firmato da Gorgone sulla prosecuzione della stessa azione. Andiamo con le immagini. Dicembre 2010, Serie B 1-1, l'allenatore del Livorno, guardate qui, è proprio Bepi Piloni. Si farà espagliare nel finale, il Pescara in vantaggio, il Pescara di Francesco con Mengoni, la punizione sporcata dalla barriera. E poi il pareggio di Schiattarella su assist di Luci nel finale. C'è questo contatto tra Sembroni e Tavano, accese proteste su tutte le furie. Bepi Piloni, allenatore dei Toscani, che viene espulso, come potete vedere, dalle immagini. E finisce anzitempo la sua partita. Qui siamo al 28 dicembre 2014, l'ultima vittoria del Pescara a Livorno. L'allenatore del Livorno era Carmine Gautieri. In vantaggio alla squadra toscana, punizione di Emerson, lo svarione in questo caso, di Emanuele Pesoli, vice di Bepi Piloni. La palla gli passa sotto le gambe, il tocco ravvicinato di Galabinov, attuale attaccante dello Spezia. Poi altro svarione però dalla parte della difesa a Maranto. Ne approfitta Pippo Riccardo Maniero in acrobazia, praticamente a due passi dalla porta difesa ad Amazzoni. Nel secondo tempo il calcio di rigore se lo procura Melchiorri. Il fallo di Moscati che viene ammonito. Il rigore della vittoria sul punto di battuta. Pippo Riccardo Maniero che non fallisce, doppietta per il centravanti che quest'anno gioca nella Cosenza. Il Pescara vincerà dunque 2-1 allo stadio Picchi di Livorno. Era il 28 dicembre del 2014 l'allenatore della Pescara Marco Baroni.